fermandomi laddove sento delle tensioni e se sento una tensione laddove ho mandato il respiro glielo rimando nuovamente e dopo qualche respiro in quella parte della testa sento come va se qualcosa si è decontratta e poi poco a poco scendo e adesso provo a fare una respirazione un po più cosciente così come proprio prevedono tre tipi sono tre i tipi di respirazione e allora la prima mando l'aria nella parte alta delle spalle anzi addirittura nell'ispiro sollevo le spalle e e sollevo le spalle